Buongiorno a tutti, salve, sono l'ingegner Laratta, sono il responsabile tecnico commerciale di Sicurcombe. Siamo un'impresa edile che da oltre 25 anni lavora nell'ambito condominiale e sono qui a presentare quello che è attualmente il nostro core business, ovvero le resine idroreattive ed idroespansive per la risoluzione definitiva delle problematiche di infiltrazioni nell'ambito delle strutture interrate. Si tratta di una lavorazione estremamente innovativa per quanto riguarda il mondo condominio, ma che veniva utilizzata da oltre un ventennio nell'ambito delle grandi opere e tutt'oggi ha trovato un rapporto costo-beneficio molto invitante anche per quanto riguarda le lavorazioni in ambito condominiale. Si tratta di fatto, viene utilizzato di fatto un particolare tipo di resina poliuretanica che espande a contatto con l'acqua idroespansiva ed espande fino a 40 volte il suo volume iniziale, non è strutturale quindi non va a rompere, non va a spaccare, va di fatto a insinuarsi, a saturare, a sigillare quelle che sono tutte le cavillature, tutti i vuoti presenti nell'ambulatura e avendo questo potere idroespansivo va di fatto a ripercorrere a ritroso quello che era il percorso dell'acqua per arrivare ad infiltrarsi, generando quindi di fatto un vero e proprio tappo impermeabile contro l'infiltrazione d'acqua. Tengo a precisare che su questo genere di lavorazione per i quali noi abbiamo sempre avuto successo negli oltre 500 interventi che abbiamo finora effettuato, rilasciamo sempre 5 anni di garanzia oltre ad una polizza assicurativa postuma di 2 anni su danno provocato. Vi ringrazio e vi auguro buona giornata. Arrivederci.